Il ministro, inviterei il nostro direttore generale, Tina Ravera, a consegnare questi primi tre tablet a tre alunni della scuola qui di Acuto. Quindi chiamo Nicole Capobasso. Dove sei Nicole? Davide Pittoni e Pier Giorgio Faraone. Eccomi qui. Allora, voi consegniamo i primi tre tablet. Si deve studiare. Sono per studiare, ci sono dentro i libri, ci sono dentro i corsi d'inglese. Ogni tanto un giochetto, ma... Ok? Va bene. Allora... Ministro? Eh, a Nicole, a Nicole, a Nicole. Viene Davide, dove sei Davide? Perfetto. E via, Pier Giorgio Faraone. Grazie, grazie. Allora, questi sono i primi tre, gli apri ovviamente, gli apri in maniera diretta. Grazie ragazzi, grazie Ministro, grazie Dottor Guidoni, grazie Dina. È stata una bellissima giornata per me, come potete immaginare. È stata una bellissima giornata, credo per Acuto, ma credo che sia anche una bella giornata per l'Italia, perché quanto nasce una storia nuova, una storia di innovazione, una storia di progresso, credo che sia sempre un bel momento per tutti. Quindi, grazie a tutti. E bravo Acuto. E bravo Acuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.